Buongiorno a tutti! Ah, un picciotto cascareletta. E' due vielli che partiamo insieme e non c'è uno che va. Ma io devo fare vielli, ma il più è che il nostro femmo non vuole l'admettere. E l'altro le fa, ma io ho trovato come fare, perché sarebbe neseconde che i vielli sono tant bene il nostro femmo. Mi metti a surmettere e posi una questione. La cosa per me ricever non surdo come din campana. Se ne rispondi mai, mi approfi un po' e posi la questione. E se ne risponde ancora, mi metti a acostare, mi metti a abramar la questione. I qui mi dico, fa tre cose che ti demande eh? Allora, vedi che sei sul d'abbate. L'altro gli ha fatto, la cosa è una buona idee. Voi assaiare. adunque rientra l'oustao, sa femma vira l'eskino perché es entra in defaere la terraio, la terraio c'è la vaissella, e es un pollueur, e fa, oh, che mangiai, questo serve? La femma ne risponde pas, s'approche un pao, deve dire, fa mai, oh, dès qu'il ha a mangiare, la femma ne risponde pas, approche un pao, le repose la question, la femma ne risponde toujours pas, si mette un croustà, si mette un brahman, oh, dès qu'il ha a mangiare, e sa femma, il risponde, la sopa, fa, quattro cò che te lo dite, adesiasse les amis.